Sono a Roma, una manifestazione molto affollata di Forza Italia e vi dico che il nostro partito c'è, sarà protagonista in questa città e in tutta Italia per fare la differenza e far vincere il centrodestra. C'è ancora gente che crede in una politica seria. Dopo il virus dell'ignoranza grillina, credo che serve al vaccino della competenza del centrodestra. Voglio questa sera esprimere solidarietà alla popolazione di Lampedusa, che ancora vede sbarchi di clandestini, e alla popolazione di Pantelleria e di altre isole siciliane. Anche lì ci sono sbarchi, centri di accoglienze adeguati, distrazione anche di troppe istituzioni nazionali. Basta sbarchi, una politica per bloccare le partenze, una politica di sostegno e solidarietà alla popolazione della Sicilia, di Pantelleria, di Lampedusa, di tutti i luoghi dove, tradizionalmente purtroppo, ma ora anche in altri, con nuovi sbarchi, questo flaggello della clandestinità si abbatte. Vogliamo un'Italia ordinata, da Roma a Pantelleria, da Lampedusa a Milano. Per questo c'è in campo Forza Italia, c'è tanta gente con noi, dateci forza e fiducia.